Superando per 1-0 il Como, la Roma Primavera ha vinto al Flaminio di Roma la terza edizione del torneo internazionale di calcio giovanile Angelo Miceli. Ha così iscritto il proprio nome dopo quello di Lazio e Fiorentina nell'albo d'oro della manifestazione, divenuta ormai nel suo genere di assoluto valore europeo per i contenuti tecnici ed agonistici che puntualmente riesce ad esprimere. Davanti a 10.000 persone i giallorossi hanno disputato una partita pressoché perfetta, fantasia di schemi, ottimo palleggio e condizione atletica hanno costituito le basi sulle quali costruire un successo scaturito al termine di sei giornate di gare contrassegnate da un continuo crescendo. La rete della vittoria è giunta all'ottavo del secondo tempo, punizione in favore della Roma dal limite dell'area di rigore Comasca, batte Giovannelli, stacco perfetto di Ugolotti premiato come miglior giocatore del torneo e palla in rete sotto l'incrocio dei pali alla destra del portiere Pintauro. Un gol perfetto da Manuel che ha sbloccato il risultato dopo una sfissiante offensiva esercitata per tutta la gara dai ragazzi dell'allenatore Bravi. Ne sono valida testimonianza i tre pali colpiti dalla mezzala Davato al terzo e al trentaduesimo e quello di Ugolotti al sessantesimo. Dal canto suo il Como ha cercato di fare quanto ha potuto, tentando di attuare in una difesa strettissima per poi attaccare di rimessa con le sue interessantissime punte Todesco e Matteoli. Essi da soli hanno spesso messo in difficoltà tutta la retroguardia avversaria, soprattutto negli ultimi minuti dell'incontro quando prima l'arbitro ha detto di no ad un vistoso fallo in aria romana su Matteoli e successivamente quando Nicoletti ha girato altissimo a pochi passi dalla porta un perfetto lancio di Zorzetto. Alla chiusura delle ostilità premi per tutti e appuntamento al prossimo anno con un patrimonio di interesse e spettacolarità da conservare e confermare.